ed eccomi qui con il mio iphone martinizzato io ho scelto una back cover glitterata verde perché verde era già di base il mio iphone infatti vedete il logo della mela che è tono su tono e poi ho scelto questa cover meravigliosa che è la marty shine color magenta ma dovrebbe chiamarsi viola nel sito se non ricordo male è bellissima e ha i tasti volume e accensione spendimento più lucidi proprio come la parte più chiara diciamo qui delle fotocamere trovo che l'effetto il contrasto sia meraviglioso almeno a me piace tantissimo ma ciò non toglie che più avanti potrò magari sostituire questa cover back cover glitterata con un animalier magari pitonata che col verde dovrebbe starci davvero molto bene tutto questo per dirvi che a breve sto aspettando che mi arrivi la cover da mettervi a paragone con questa trovata credo su temi ma siccome tante persone sostengono che new martina prenda le stesse cover di questi siti ci metta sul suo marchio e le rivenda beh io vi dimostrerò che non è così infatti li ho cercate veramente dovunque aliexpress shane e temi sono riuscita a trovarne una similare a questa ma non uguale quindi mi raccomando rimanete connessi perché vi porterò la prova che le cover comunque gli oggetti di new martina non sono assolutamente uguali a quelle dei siti cinesi